Sì, ciao, sono Mattia. Eccoci. Ciao. Ciao, ciao Mattia. Ciao. Cinzia. Mattia, piacere. Salve. Ciao, sono Mattia. Noemi, noi per gli amici. Piacere, Mattia, Schuss per gli amici. Ah. E per gli artisti. Quindi mi puoi chiamare Schuss se vuoi. Schuss? Prego. Ma come buffo? Eh, lo so. Abbiamo invitato Mattia, che è un artista locale. La prima impressione è stata veramente fantastica perché la Noemi è un amante dell'arte e c'è stato subito feeling. Lo trovavo buffo la prima volta che l'ho sentito. Mi hanno detto che sei un artista. Sì, anche a me mi hanno detto che tu sei un artista. Che prima impressione ho avuto? Ma tranquillissima in realtà. Non mi aspettavo il ciuffo blu della Noemi e l'ho trovato molto carino. Beh, incontrare Mattia è stato come andare in un posto in modo psicologico. Per me è così, quando conosco una nuova persona. È come andare in un altro posto. Quindi scrivi un libro e fai disegni? Sì, esatto, dei disegni però legati proprio al libro stesso. Ha scritto questo libro ambientato a Sansepolcro, stile Harry Potter e adesso sta scrivendo la seconda parte, il secondo libro. Questa passione mi è nata pian piano a scuola mentre studiavamo letteratura. Ha cominciato ad affascinarmi sempre di più e quindi mi è nata questa passione di scrivere. Lei riesce a dire quello che pensa realmente scrivendo ma non riesce a esprimerlo qualche volta verbalmente. Per lei è molto più semplice scrivere. Mi fai vedere qualche disegno? Certo. Allora, questo è stato il primo schizzo, no? Cercavo di dare un po' una forma, un aspetto sulla protagonista. Wow, bellissimo. Ah, questo è un lupo, giusto per non confonderti. Con le ali. Esatto. Fantastico, mi piacciono tantissimo i disegni che ha sulla coda, sulle zampe. Le ali, la coda del lupo incorniciano il personaggio principale e ho trovato che già lì, era il primo disegno che ho visto, ci fossero delle idee, delle soluzioni grafiche molto di impatto. Per me far vedere i disegni a Mattia è stato entusiasmante e allo stesso tempo divertente. Perché nel mio libro è un libro fantasy legato, ambientato proprio qua al borgo. Ah, no, beh ci sta. Sì. Ci sta ambientare una storia fantastica al borgo. Esatto. Ma sono curiosissimo di leggerlo comunque. Certo. Mi è bastata anche una prima occhiata che ho capito che era completamente curioso. Ora sto cercando di immaginarmi dov'è questo Caius al borgo, a Sansepolcro. Diciamo che, diciamo così, non so se esiste una grotta qui vicino, ma ho provato a fantasticare un po'. La fantasia per me è come una via di fuga tra questo mondo, diciamo così, un mondo grigio e oscuro, diciamo. Perché allo stesso tempo mi dà anche la forza di andare avanti e anche affrontare le mie paure. E da essa ne trago anche ispirazione. Invece questo è ancora nel secondo libro, sarebbe l'esercito dell'antagonista. Si vede che lui è cattivello, eh. Volevo fare in modo che ci siano queste due fazioni, bene e il male, come si sa, no? Però il male è quello che corrompe ma che distrugge anche la natura. Volevo fare in modo che anche le persone leggessero i miei libri capissero quanto la natura sia importante. Perché nel secondo libro ho descritto che queste creature sono fatte di catrame, con braccia meccaniche arrugginite, si capisce, dalle macchie. E gli occhi sono fatti di fiamma verde tossica. La natura per me è importante, è vita. Ma c'è gente al mondo che non se ne preoccupa o se ne frega completamente. E ho pensato di dare una mano al mondo, così a parer mio, attraverso la scrittura. E tu disegni sempre i personaggi per il tuo libro o disegni anche altre cose? Eh, in questo momento sono più concentrata su questo, diciamo. Ma in passato? In passato mi divertivo a fare dei piccoli schizzi, no? Grazie mille, velocissima. Anche per distrarmi, anche per sconfiggere la noia. Sì, ti capisco. Oltre a scrivere e a sconfiggere la noia, per esempio, mi metto a cantare o a ballare, mi aiuta. Ci sono dei momenti in cui quando sono preda di emozioni forti mi metto a ballare anche. Mi ha sempre toto a sfogare e quando sono sfogata, diciamo, mi sento libera da tutto e mi rilasso. Magari se ho un camera, torno qua e la trovo che balla perché è un modo per sfogarsi. Magari se sto lì smette. Lei vuole rimanere da sé e sfogarsi con il ballo. Vuoi ti faccio vedere qualche disegno mio? Ok, ora sono un po' nervoso perché abbiamo un po' di disegni molto belli. Poi Wuff è il tuo nome d'arte. Cius, eh sì. Ma che significa poi Cius? Non significa niente, è un soprannome che i miei amici mi hanno dato da bambino. È come dire Cisa, la macchina fotografica. È più o meno, sì, infatti mi prendevano tutti in giro. Però poi è diventato un po' il mio nome d'arte. Allora, queste sono stampe, sono riproduzioni dei miei disegni. Belli! Le prime impressioni che ho avuto sui suoi disegni sembravano parecchio legate ai graffiti, ma allo stesso tempo mi sono piaciuti subito. Si vedeva che era davvero un grande artista. E se riconosce gli artisti anche a un miglio di distanza. Mazza! Mi ispiro a diverse cose. Alcuni sono un pochino più macabri, tipo questo qua. E poi c'è lei. È l'origine della vita. C'è questo disegno che l'ho ammestrato. È un disegno che ho fatto in un periodo un po' buio della mia vita. E lei ha detto l'origine della vita, guardando questa scena un po' macabra. E mi ha proprio colpito che abbia detto questa cosa. Sì. Ci sono varie tematiche. Io quando ero più... Questa mi fa venire in mente la Dea Greca della Magia, Ecate, perché veniva sempre affigurata con tre facce. Eh, sicuramente mi sono ispirato a qualche mitologia. Alla Dea Greca della Magia. Ci sta, ma infatti... Perché veniva raffigurata con queste tre teste, una dall'altro lato e l'altra la stessa cosa. Fantastico come mi dici sta cosa. Sono contento che gli siano piaciuti e che abbia avuto delle osservazioni quasi un po' spiazzanti, molto accurate e molto profonde. Questo è bellissimo, dai. Ti piace? Sì, e anche... No, questo, i corvi no. È troppo... È troppo dark. Questi due invece. Questi due uomini albero, anche questo. Sì. Sai chi è lui? Quale? Questo qua. Lui è ispirato proprio alla mitologia nordica. Di... Si chiama Loki. Loki è... Mi riferivo al figlio, che lui aveva una forma del serpente. Bravissimo. Il serpente del mondo. Sì, e lui? Dietro il vero c'è il lupo. Fenrir. Sì. Esatto. Sono i figli di Loki. E Loki è lui? Sì. Sei informatissima. E quell'albero lì? Il Brasil. Sì, e lui lo guarda malignamente pensando di, non lo so, fare qualcosa di meschino. Sa tutto di mitologia, Noemi anche qui mi ha spiazzato, mi ha detto il nome del serpente del mondo, il figlio di Loki, che non me lo ricordavo nemmeno io, perché hanno dei nomi impronunciabili. Quando c'è una mitologia in particolare, che è anche di molto curioso, mi metto a studiarla e vado parecchio a fondo. Io definisco la mitologia e il fantasy, diciamo, due facce della stessa medaglia, ma in modo un po' diverso. Non come il bene e il male, ma due mondi particolarmente diversi, ma allo stesso tempo uniti. No, fantastico, mi piace un sacco poter comunicare con una persona che coglie riferimenti che io metto nei miei disegni. Anzi, ne vede di riferimenti che io non sapevo di averci messo, per esempio. Proprio sulle rose poi, diciamo che io ho un mio nome d'arte personale, diciamo. È un po' poetico, ma mi piace lo stesso, rosa-blu. Rosa-blu, che bello. Perché c'è, l'ho sentito da alcune parti, no, e anche su internet che esisteva, secondo una leggenda, esisteva proprio questa particolare rosa-blu. Insomma, c'è tutti i colori, ma il blu mai? È per quello che hai i capelli blu? Esatto, mi fa sentire più vicina, ecco, nel mio nome d'arte. Eh sì. È il mio colore preferito, ma oltre al blu normale, mi piace anche il blu notte. Tutti i colori legati alla notte stessa, perché mi affascina a guardare le stelle, la luna e molte altre cose. Eh, basta vedere. I personaggi notturni, vedo, infatti. Anche le fasi lunari. Ah, adesso li riconosco, che bello questo. Non ce l'ho solo qui, anche qui, che è la stessa immagine di quest'altro, ma ce l'ho anche sul cappuccio, come puoi vedere. No, vabbè, è stilosissima sta felpa. Diciamo che mi definisco una tipa notturna, ecco, in poche parole. Bello questo. Ti piace? Questo mi sono divertito a fare. Sembra quasi legata alla natura, ma anche al mio segno zodiacale, i gemelli. Sai dei gemelli? Sì. Ah, vedi? Ah, sono contento, mi piace. Poi mi piace come hai disegnato i capelli, come a mo' di foglia, diciamo. Sì, mi piace un sacco fare questo motivo, dove i capelli sono le foglie, a volte i corpi si confondono con rami, radici. Straordinari, con la S maiuscola. Sembrano vivi, sembra che vogliono uscire proprio dalle mura dove ha dipinto lui. Sembra ancora legata a Ecate, ancora una volta. È vero, sì. Perché se ci fai caso, guarda. Le tre teste, sì. Sarebbe la dea greca della magia e veniva venerata da molte persone, come per esempio anche i druidi, da quello che sono riuscita a trovare anche su internet. Mi sono contentissimo che adesso tu mi hai dato il nome di Ecate, quindi ora posso approfondire di più il personaggio. Se c'è una cosa che mi piace è anche dare consigli anche agli altri artisti. Ti ringrazio, infatti è bellissimo. Tra artisti dobbiamo scambiarci sempre informazioni. Mi piace vedere lo sguardo soddisfatto di altri artisti, mentre gli do qualche consiglio che è utile per loro. Ma ti piacerebbe vederne uno di persona? Sarebbe bello. Sì, ti va di andare, ce n'è uno a Sansepolcro. Aspetta, dov'era, è preciso? È a Porta del Ponte. A Porta del Ponte? Allora è proprio vicino allora. Sì, infatti. Ti va di andare a vederlo? Dai, sarebbe una figata pazzesca. Dai, andiamo allora. Non mi aspettavo che Mattia avesse fatto un murales proprio qua al borgo, visto che mi ha fatto vedere che molte delle sue opere le le ha fatte all'estero e quindi non me l'aspettavo proprio qua. Non ci avevo pensato due volte a dire di sì. Volevo vederlo con i miei stessi occhi, quest'opera che ha fatto qua. La Noemi non esce mai. Lei è un asperger e il suo problema proprio è socializzare. Che poi socializza, parla quando incontra le persone, però ecco la vita di tutti i giorni e se la vuoi portare fuori è difficile, insomma. Ti va di andare a vedere un murales a Porta del Ponte? Dei campolavori. È vero? Sì. Che bello. Andiamo? Se va Noemi? Sì. Mettermi la giacca. Belli Noemi. Stupendi. Bellissimi. Vero? Incredibilmente stupendi. Quando ti vuoi far venire l'ispirazione che fai? Prendi il quaderno, vai in giro per il borgo e prendi appunti? Diciamo che non è che poi prendo un quaderno e scrivo appunti. In realtà mi basta solo osservare. Diciamo che considero il borgo già magico di per sé, visto che è molto antico, no? Basta guardarsi intorno. Quindi sai l'occhio per i dettagli, comunque. Sì, sì. La mia capacità di vedere bene i dettagli è nata quando studiavo storia dell'arte a scuola e quindi notavo anche alcune particolarità che alcuni di miei compagni non avevano notato. E grazie a questa mia capacità di vedere i dettagli ho avuto ottimi voti. Diciamo che quando ho visto per la prima volta i film di Harry Potter, quando sono uscita dal cinema ho visto il borgo con occhi diversi. Ho cominciato a vederlo, sì. Era a notte quando ero uscita dal cinema, no? Quando ho miso per la prima volta il primo film. Ho provato una strana sensazione, ma non negativa, ma positiva. Mi sono detta che la magia è ovunque, ma basta guardarla con occhi diversi. Eccoci, allora. Questi sono gli orti urbani di Sansepolcro. Un posto molto bello, se non lo conoscevi. Non l'ho mai visto. All'inizio non sapevo che ci fossero questi orti urbani, pensavo che dietro a quella porta ci fosse una zona privata e nient'altro. Serenità e tranquillità. Un posto adatto per coloro che amano coltivare. Mi ha dato proprio questa impressione. E questo è il murale scofatto, boh, tre anni fa? Due anni fa? Cosa ci vedi in questa immagine? Beh, diciamo, in modo spirituale, diciamo. Perché spesso le fatte sono attribuite agli spiriti della natura, quindi con lei che si riposa cerca di dargli vita a quest'albero umanoide. Brava. Infatti vedi, c'ha tutte le foglie verdi riguriose lei. Invece la creatura umanoide con le foglie secche, la pelle marrone è come se fosse quasi terra secca, no? O legno secco. Diciamo che qui hai fatto un piccolo errore, diciamo, in quell'altra mano. Dovevi... Oddio, c'era una zanzara. Volevo dire, potevi mettere leggermente la forma della mano, no? Come, diciamo così, le piccole rupe che c'ha una mano particolare, no? Sì, hai ragione. Forse potevo dargli più volume, no? Esatto, sì. Come ho fatto magari di là sul corpo. Esatto, nell'ombra, diciamo. Sì. Volevo che rimanesse un pochino più in secondo piano. Per quello l'ho fatta in tinta unita. Però sono d'accordo con te. Anche i migliori sbagliano, eh? Perché l'errore che ha fatto Mattia l'ha reso piatto e come se al stesso tempo ha fatto l'ombra della mano in cui si vede davanti, no? Quella tutta colorata. E quindi c'è il rischio che la gente lo vede e si confonde. E vedi questo posto, eh? Non sapevo nemmeno che esistesse. Adesso lo sai. Secondo me è stata, la mia impressione è stata un'idea ottima quella di creare un orto personale per tutti loro. Potrebbe essere anche una buona idea anche per la gente di città che vuole avere un orto personale, diciamo. Quindi è come spostare la gente di città a quella di campagna. E lei hai fatto, cosa hai fatto? Il liceo artistico? Esatto, proprio qua. Ah. O come sono solita dire, la vecchia scuola, ecco. La vecchia scuola. Sì. Perché? Eh, non lo so, mi viene distinto dirlo proprio così, vecchia scuola. Sì. E ti è piaciuto fare liceo artistico? Sì, sì. Almeno potevo sfogare la mia fantasia. Eh, infatti. E non tenela sempre, per tutto il tempo, imbottigliata. Sì. Così l'ho tirata fuori quando ho messo piede lì. Lei è un amante della letteratura e storia dell'arte, dunque lì poteva veramente esprimersi. Ma ti posso chiedere un favore? Dimmi. Me lo fai un disegno nel quaderno? Va bene. Le passo la matita, la penna, e lei si mette subito a disegnare, non ci pensa tre secondi. Anche sta cosa mi ha colpito, cioè un sacco di artisti professionisti, se gli chiedi di tirare fuori un disegno così a bruciapelo, vanno un attimo nel pallone. Lei non ci ha pensato due volte, come se già avesse chiaro in testa l'immagine che sarebbe andata a disegnare. La proposta di Mattia, ti giuro, non me la sono mai aspettata, guarda. Non sapevo che disegno fare e mi era venuto in mente uno dei personaggi di un libro che avevo letto. Nella tua famiglia c'è qualcun altro a cui piace disegnare o scrivere? Beh, c'è mia sorella, anche lei è bravissima. Sì? Mmh. Avete mai fatto qualche lavoro insieme? No. No? Come mai? Diciamo che ci piace fare le cose per conto nostro. Ma ci sto. È stata una giornata memorabile vederla sorridente, vederla contenta di uscire e di disegnare insieme a un artista. È una giornata fantastica. Mi sicuro ti metteresti a ride per quello che sto per dirti, perché da quando ho letto quel libro, no? Mmh. La collina dei conigli non ho più toccato carne di coniglio. Mmh, ci credo. Ti sembra proprio di... connetterti con i personaggi. Soprattutto quelli legati agli animali. Mmh. Più leggo storie come quelle e più porto rispetto. Noemi lo dice in maniera molto... alla leggera quasi, però è un commento forte, no? Dire che porta sempre di più rispetto per gli animali perché si immedesima con i personaggi di cui legge nei libri. Perché sono anche loro parte di questo mondo e cercare di assoggettarli, maltrattarli, è una cosa barbara per me. Quindi, se alcuni scrittori scrivessero il mondo degli animali in modo un po' diverso, un po' fantasioso, no? Come ho letto... come quel libro La collina dei conigli di Richard Adams, la gente potrebbe provare parecchio rispetto nei loro confronti. Oltre che conigli, intendo. Io stavo disegnando una specie di... di ninfa del bosco con i fiori al posto di capelli. È un'adriade, in poche parole. Un'adriade, esatto. E mi sono ispirato ai tuoi disegni. Guardate, copione! No, mi sono solo ispirato, dai. No, era per prenderti un po' in giro. E beh, io non ne faccio una tragedia. Condividere è una cosa utile tra noi artisti. Quindi, nessuno si deve lamentare. Allora ti regalo una stampa, dai. Allora, mi pare di capire che questa ti piace. Sì. Però scegli tu. Oddio, sono troppo bella. Belli, che difficili. No, sul serio. Dai. Scegli ne una. C'era anche quella di Ecate. Non so quale scegli tra questi due, guarda. Sono troppo belli. Quasi quasi li prenderei tutti e due. Dai, prendili tutti e due. Scherzi? No. Ma ne sei proprio sicura al 100%? Sì, sì, sì. Sì, ne ho altre, non ti preoccupare. Ah, meno male. Sono stampa. Mi è venuto quasi uno spavento. Però te lo firmo, vuoi? Cioè, io di solito faccio... Qui davanti c'è sempre il nome. Faccio una firmettina dietro. Ah, grazie. Che sono troppo belli. Questi sono bellissimi, dai. Dai, sono contento che ti piace. Cioè, tu mi hai fatto un disegno originale, autografato. Avevo un tantino paura che se la prendesse male, ma invece si è liberato un ragazzo tranquillo e anche molto cordiale. Avevo paura di chiedere troppo. C'ho questa paura, ecco. E poi devo fare incorniciare questo che non l'ho fatto io. Questo l'ha fatto un mio amico. Vediamo se riconosci il soggetto. Sei tu. Sì. Questo l'ha fatto un mio amico. Questo è un regalo per mia mamma. Sono sicura che gli piacerà. Sì, dai, penso anch'io. Oh, occhio che c'è un po' di vento. Sì, cominciamo a mettere via. Vuoi tornare a casa? Va bene. O vuoi restare nel prato qua? A me è bastato adesso. Sì, eh? Eh, sì. Non esci tanto spesso. Eh, no, diciamo che spesso, tipo quasi come un'eremita, stai sempre barricata in casa. Vabbè, se ti piace così va bene. No? Eh, quando esco di casa, lo sento normale. Come... come qualsiasi persona civile, in poche parole. Nient'altro. Nel senso che non provo niente. Come posso spiegarlo? Esco, faccio una passeggiata con la mia cagnolina e penso per i fatti miei. Tutto qui. Ah, ecco. Eh, no, mi devi autografare. Certo. Sì. Ce l'hai una penna o...? Per te. Dai, che bello. Questo me lo leggo tutto d'infiato. Anche l'immagine l'ho disegnata io. Sì, la copertina. Il disegno, per la precisione. Lo conosco, sì. Io con questa parte, lo so, mi sono un po' ispirata alla scena di Etty e Elliot. Oh, non... Un po' ispirata. È vero, è che me lo dici sì. Perché quella scena mi ha proprio conquistata. E' una dedica che mi sono sciolto perché era molto carina. Sì, mi ha fatto un sacco piacere. Mi ha fatto molto piacere scrivere una dedica a lui. E come avevo scritto, che era un grande artista di tutti i tempi, e quindi quelle sono parole vere e ve lo dico io, guarda. Ma bene, così mi commuovo. No, è vero, guarda, adesso riconosce la vera arte. Questa è arte pura. Grazie. Ci sono alcuni piccoli disegni che avevo fatto, che poi erano stati stampati. La sensazione di vederli insieme a disegnare è stata bellissima, perché, come dicevo, la Noemi ha avuto un feeling subito speciale con lui, perché lui è veramente una persona fantastica. Ha saputo cogliere e interagire subito con lei. E non è sempre così facile. Come ho detto prima, è stato divertente, entusiasmante, ma anche istruttivo. Perché in poche parole mi sono fatta anche un nuovo amico, parlando di arte con lui. Mi sono sentita a mio agio con lui. È valso assolutamente la pena. Mi sento anche molto toccato dall'aver conosciuto questa persona, che sicuramente ha un'enorme profondità, un'enorme creatività. Sono contento che la sappia esprimere con la sua scrittura e il suo disegno. Poi se giri, guarda, c'è anche il simbolo del Valtiberino Autismo, che il simbolo stesso l'ho disegnato io. Dai! Ma è bellissimo! Grande! Erano indecisi qual è il simbolo scegliere, e quindi hanno chiesto a me. Te hai detto, fate fare a me che me ne intendo le immagini. Bellissimo! Mi piace un sacco. Sono braccia con sopra l'arcobaleno, così, come segno d'aiuto, ecco. Che si tengono. Esatto. Quando siamo usciti, è stato divertente uscire con dei vecchi amici, anche se eravate nuovi. Grazie!